Ben tornati su Radio News 24, io sono Teresa Andreozzi e state ascoltando il format interviste storie on air. Oggi parleremo di arte contemporanea e lo facciamo andando in Abruzzo a trovare Maria Antonietta Firmani, benvenuta. Buongiorno, grazie di aver invitato. Grazie a te per aver accettato il nostro invito Maria Antonietta. Allora, vuoi parlarci di Parallelo 42 Contemporary Art e dirci qual è l'obiettivo? Sì, allora Parallelo 42 è un progetto culturale che spazia su più fronti, dalla promozione del territorio agli incontri con i grandi autori. L'obiettivo è la divulgazione della cultura, quindi maggiore attitudine e abitudine all'arte. Bene, è un bellissimo obiettivo, si sa di arte insomma si vive, è importante l'arte soprattutto oggi, in questi periodi molto difficili per le persone. Allora, voglio lanciare l'hashtag arte contemporanea ma anche l'hashtag contemporaneamente perché poi alla fine Maria Antonietta ci parlerà anche di questo nuovo progetto nato in pandemia. Intanto ci puoi illustrare un po' quelli che sono i progetti sul territorio, Maria Antonietta? Sì, allora i progetti d'arte e territorio nascono nel 2000. Il primo progetto con quattro castelli in Abruzzo, uno per ogni provincia, propose una ricognizione dei percorsi contemporanei dell'arte da Amichetti a Spalletti, organizzai due mesi di mostre coinvolgendo 3000 studenti, facemmo gli accordi con gli agriturismi, coinvolgemmo cinque comuni, quattro province, c'è la regione Abruzzo. I progetti poi sono cresciuti coinvolgendo anche il sistema imprenditoriale, la Camera di Commercio di Pescara, gli amici di Confindustria, gli enti territoriali e buyer internazionali per la promozione di scambi culturali, la promozione turistica, preziosi patrimonio locale, agroindustriale, storico-artistico ed architettonico. Abbiamo invitato delegazioni straniere organizzando tour, convegni ma anche residenze d'artista. Abbiamo coinvolto studenti dell'università e dei licei che erano attori protagonisti nella speranza di promuovere un feedback tra formazione e autorealizzazione e sviluppo imprenditoriale. È stato presentato poche settimane fa un nuovo progetto con nove comuni, cinque regioni, quattro partner nazionali e un partner internazionale. Trovate video dei nostri eventi sul nostro canale YouTube Parallelo 42 Contemporari e Arte e sul nostro sito Parallelo42.it. Ottimo Maria Antonietta, quindi veramente una grande valorizzazione del territorio. Lanciamo l'hashtag Arte e Territorio e ti chiedo di parlarci anche di quelli che sono i progetti editoriali e degli incontri con gli autori. Sì, ecco, nel 2005 è nato Parallelo42 appunto e ad oggi abbiamo realizzato molte piccole produzioni editoriali, monografie, limited edition e preziosi art gadget con i massimatori contemporanei. Dai primi che erano Ettore Spalletti, Maurizio Cattelan, Ettore Sozza, Celio Ferrucci, Gillo Dorfless, fino a Marina Abramovic, Vanessa Bicro, Fregina Giosse Galindo, lo scienziato Stefano Mancuso, il sociologo Michel Maffesoli. Solo per citare gli ultimi, abbiamo pubblicato oltre 100 grandi autori e abbiamo realizzato preziosi multipli con Mimmo Paladino, Enzo Cucchi, Ferdinando Scianna e Ian Fabre e sono molto felice perché sono oggetti preziosi da collezionare ma anche da regalare in occasioni speciali e sempre trovate le informazioni sul nostro canale YouTube e sul nostro sito Parallelo42.it. Ottimo Maria Antonietta, quindi veramente tanti nomi e anche autori internazionali, vuoi parlare anche di questo? Sì, ecco, insieme alle raccolte e quindi alle produzioni editoriali facevamo sempre questi incontri perché la cosa bella è incontrare queste persone, quindi incontri importanti. Abbiamo fatto davvero tanti eventi, che ne so, ne ricordo quello divertentissimo con Olivero Toscane e Chele Bonito Oliva in artefiera diretta da Silvio Evangelisti o anche la preziosa serie di incontri con Mario Botta, Anna Mattirolo che era direttrice del Maxi, Elio Fierucci, il grande e meraviglioso Elio Fierucci purtroppo scomparso nelle università abruzzesi. Nel 2015 ho avuto il piacere di fare questa meravigliosa mostra permanente di Olivero Toscani all'ospedale civile di Pescara che è una cosa molto rara nel suo genere, che è insomma ancora visibile. Lo scorso anno era in programma un grande evento con Jan Faber, Giacinto Di Pietrantonio, Dimitri Orzikov che è direttore del settore contemporaneo dell'Ermitage di San Pietroburgo. L'avremmo fatto in quattro location con le università abruzzesi, purtroppo è stato bloccato dal Covid e comunque trovate il video della mostra di Olivero Toscani e anche tutti gli altri fatti sempre sul nostro canale YouTube Parallelo 42 Contemporary Art e sul sito. Certo Maria Antonietta, quindi veramente autori internazionali di grande rilievo e hai citato la pandemia, ecco è nato anche il progetto Contemporaneamente, abbiamo lanciato anche l'hashtag, vuoi raccontarci brevemente di cosa si tratta? Sì, ecco contemporaneamente è stato un modo per cercare di capire che cosa stessimo vivendo e quindi in settembre con gli amici di Art Tribune è nato questo progetto. In sei mesi ho avuto il piacere e la possibilità di organizzare oltre 30 incontri con oltre 60 grandi e straordinari autori, intervisto sempre insieme un uomo e una donna per parlare di lavoro, di contemporaneità e di lusso e di questo progetto sono veramente molto orgogliosa perché è un modo per capire il contemporaneo tra arte, scienza, letteratura, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Solo per citare qualcuno degli autori invitati, il filosofo Maurizio Ferraris con la scienziata Cristina Becchio, Achille Bonito Oliva con la Presidente di Banca Etica Anna Fasano, il filosofo Marramau con la statistica Monica Pratesi e poi ancora il filosofo Luciano Floridi, Franca Odisio, il sociologo Paolo Crepe, Rosi Sgravati, Alberto Garuti e moltissimi altri. Consiglio davvero, insomma, se avete un po' di tempo di ascoltarli, magari mentre si fa footing o si passeggia nel parco perché è un modo divertente per ampliare le nostre conoscenze. I podcast sono su Art Tribune e sul nostro sito www.parallero42.it. Ottimo, Maria Antonietta. Allora voglio ricordare ai nostri ascoltatori di andare sulla pagina Facebook Parallero 42 Contemporary Art, anche sulla pagina Instagram Maria Antonietta Firmani, tutto piccolo, tutto attaccato e come diceva prima Maria Antonietta non vi perdete le interviste su YouTube Parallero 42 Contemporary Art. Veramente concedetevi un po' d'arte in questo periodo molto difficile dove abbiamo magari anche un po' di tempo in più da dedicare appunto all'arte e al territorio. Grazie mille Maria Antonietta per essere stata qui con noi e probabilmente vedrete anche questa piccola intervista formato podcast sul canale YouTube. Grazie. Grazie a te. E in buon lupo. A presto. E voi amici di Radio News 24 non ci lasciate perché le interviste e le storie on air in tutta Italia non finiscono qui.